Buongiorno e bentrovati con la rassegna stampa di Molise TV. Oggi è venerdì 2 gennaio, vediamo come titolano i principali quotidiani locali e nazionali. Iniziamo dal quotidiano del Molise, che titola con Capodanno, barricati in casa, saltano veglioni e cenoni a causa dell'eccezionale nevicata di San Silvestro. I piani di sgombero finiscono sotto accusa, riscoperto il piacere di festeggiare in famiglia e con amici. Lo ricorderemo a lungo questo Capodanno caratterizzato da neve, mezzo metro e temperature polari. E poi Regione, speranze aspettative, il governatore fa gli auguri ai cittadini. Cronaca, torre eolica spezzata in due da raffiche di vento. E ancora a Campobasso, il primo vagito del 2015 di Sofia e i genitori suono di Boiano. Isernia ha un arsenale in macchina per far esplodere la festa, è insospettabile ed incensurato, non aveva intenti dinamitardi, ma i botti gli sono costati la denuncia. E ancora tuffi da brivido per salutare il 2015 a Termoli, in provincia di Isernia, riti che fanno venire la pelle d'oca. Una sfida alle acque gelide condita da un pizzico di sana, bene augurante follia in salsa molisana. Da 37 anni il fornelese 67enne Gaetano Di Carlo si tuffa nelle gelide acque del Volturno il giorno di Capodanno. Stavolta lo ha accompagnato il compaesano vicino di casa Enrico Angiolilli. Non meno gelide le acque dell'Adriatico, in cui si è tuffato un gruppo di intrepidi termolesi, per tutti un pizzico di sana follia, bene augurante. E poi lo sport, Serie D, Selva Piana coperto di neve, probabile sgombero per il derby, oggi riprendono gli allenamenti dei Rosso Blu. L'intervista Antenucci si racconta, orgoglioso di giocare con i Leeds, e il bomber di Rocca Vivara parla della sua avventura. Speciale un anno da lupi, la cavalcata Rosso Blu in 12 mesi, riproponiamo lo speciale dedicato al Campo Basso. Passiamo ora a Primo Piano Molise, che titola con neve il flop della macchina organizzativa. Fioccano polemiche sulla gestione della prima emergenza invernale, ampiamente preannunciata dagli esperti. Regione tagliata in due al valico di Castelpetroso. Il maltempo non risparmia neppure la costa, ferrovia paralizzata e passeggeri bloccati a Larino. Flop del Piano Neve in buona parte della regione, a Campo Basso, disagi lungo le strade più trafficate. A Isernia protesta dei residenti delle Borgate, ma i problemi maggiori sono stati registrati a Castelpetroso. Importante snodo viario, lo svincolo è rimasto off-limits per diverso tempo, dividendo in due la regione. A Larino si è bloccato pure il treno, i 30 passeggeri sono rimasti fermi in stazione per ore. La tratta è stata successivamente chiusa. Battista scivola sul ghiaccio, intilta anche le strade più trafficate della città, e Pasquale chiede la testa di Maio. Il sindaco Battista e l'assessore Maio non superano il banco di prova della prima neve di mandato. Cittadini infuriati, opposizione sul piede di guerra per la gestione dell'emergenza ampiamente prevista dagli esperti. Viabilità in tilta anche nelle strade più centrali e trafficate. La bufera in Alto Molise, isolati per tre giorni, nonno e nipotino salvati dai vigili del fuoco, per tre giorni bloccati in contrada, Santo Onofrio, nonno e nipotino di 5 anni, raggiunti ieri dai vigili del fuoco. E ancora è venuta la luce al Cardarelli, la cicogna porta un fiocco rosa, si chiama Sofia De Santis. Il freddo non ferma il bagno di Capodanno. Nel mare di Termoli, 18 temerari e l'uomo ragno. 18 temerari e l'uomo ragno. Ieri a mezzogiorno hanno sfidato neve e giallo, tuffandosi per la settima volta in mare per un bagno augurale. Nel gruppo anche una coraggiosa donna. E poi il tuffo nel Volturno dedicato ai più piccoli, il buon 2015 di Gaetano Di Carlo. Le temperature polari non sono un problema per Gaetano Di Carlo, che ieri si è tuffato per la 37esima volta nelle acque gelide del fiume Volturno, accompagnato da Enrico Angiolilli. E ancora bombe carta in auto pronte per esplodere a San Silvestro. I carabinieri sequestrano i botti e denunciano un trentenne di Isernia. Un trentenne di Isernia è stato denunciato dai carabinieri. I militari hanno trovato nella sua vettura diverse bombe carta per oltre 25 kg di materiale. Erano pronte per essere vendute ed esplodere nella notte di San Silvestro. Tuttavia non sono mancati problemi in città, venti gli incendi dovuti ai botti che i vigili del fuoco hanno spento. E ancora una notizia dall'Abruzzo. Da San Salvo, musicisti intrappolati a Capracotta, tornano a casa con una fattura assalatissima, disavventura cara per i giovani musicisti dell'orchestra. Musica in crescendo di San Salvo, bloccati dalla neve in un hotel a Capracotta. E poi lo sport, toccante lettera alla promessa di Cosco, aspettatemi, batto il cancro e torno nel calcio. E poi un anno di sport, gli Oscar del 2014 a Mister Farina e alla giudoca Centracchio. Atletica non opposto per Andrea Lalli al Boclassic di Bolzano. Passiamo alle pagine interne. Politica stop al servizio di assistenza domiciliare per i malati di Alzheimer. Da dieci anni dava sostegno ai familiari che si prendono cura dei propri cari. L'amarezza dei parenti che hanno ricevuto la comunicazione il 31 dicembre, dimenticarsi di chi dimentica. Trapianti e patologie rare trasferiti all'Asrem, 200 mila euro per i rimborsi, Petraroia nei prossimi giorni saranno liquidati gli importi dovuti ai pazienti. E poi prorogata la caccia al cinghiale e alla beccaccia, piovono critiche, la fondo del WWF, l'ennesimo regalo per la lobby delle doppiette. Il delegato Di Pietro è soddisfatto per la riapertura del calendario venatorio. Ancora il volto nuovo della politica, la proposta di Future Dem, istituire un consiglio regionale dei giovani. De Marinis prepara l'agenda del movimento per il 2015. Agenzia regionale di protezione civile, fine anno a Mara per gli addetti alla sala operativa. la regione non ha rinnovato l'appalto alla Digis. A casa i 13 dipendenti pronti a rivolgersi alla magistratura. E la Will boccia la gestione dell'emergenza neve. Il Molise è rimasto isolato. Tecla Boccardo accusa i piani di intervento solo sulla carta. Fondazione 8 lavoratori mobilità stoppa il contratto con la servizio ospedalieri S.p.A. Ancora da domani via i saldi, scatta la corsa all'affare, i consigli della di consumo per evitare le truffe. Adesso guardiamo insieme il quotidiano online. Informa Molise. Tra le notizie in primo piano. Expo 2015 parte la campagna ad ecco di recruiting per lavorare nei padiglioni. Eni, selezioni aperte per gli ingegneri. Ancora Petraroi ha un ringraziamento alle forze dell'ordine di volontariato per le emergenze del maltempo. Unione Camera in Molise riapre i termini dell'avviso pubblico per la selezione di progetti per innovazione. Vincenzo Cosco, l'affetto dimostrato mi dà la carica per la mia battaglia contro il cancro, poi il calendario dei corsi di formazione di Terminus. Il presepe sul fiume a Boiano, partecipazione e condivisione in una serata magica. Il comune di Molise è successo rinnovato per la manifestazione Vivi il tuo paese. Maltempo e polemiche, l'Agenzia di protezione civile chiarisce piena operatività delle tre sedi. Passiamo ora alla stampa nazionale. Leggiamo il quotidiano, la stampa che titola con riforme e corruzione appello di Napolitano, mettiamocela tutta, la conferma delle dimissioni. Sono stanco, sto per lasciare il bilancio del Presidente e ho fatto del mio meglio. L'intervista sul Colle, né veti né in posizione dai democratici, il Vice-Segretario Guerini, la scelta non sarà un terreno per altre rese dei conti fra noi. E ancora il controdiscorso, Grillo, il simbolo della catacomba non perseguitati, il leader del Movimento 5 Stelle ha parlato da una sorta di grotta a cui alleggiano gli spiriti, ma quelli buoni. E poi ancora la supplica delle ragazze, aiuto, siamo in pericolo. La normal Atlantic, altri sei indagati sono ufficiali e sotto ufficiali del traghetto Lira dei Naufraghi personale inadeguato. Al colloquio il comandante tornerò in mare, la linea di difesa dell'equipaggio non sapevamo dei clandestini. E ancora raffiche di aumenti, tasse e bollette per le famiglie, una stangata da 677 euro. Passiamo ora alla gazzetta del Mezzogiorno che titola con Napolitano Addio Vicino. Pesano i limiti dell'età? Appello al paese, mettetecela tutta, l'ex portavoce Cascella vi racconto i miei sette anni al colle. Il discorso, il capo dello Stato cita gli italiani esemplari, l'apprezzamento di Renzi per i nove anni al servizio della nazione, al suo erede il numero di telefono più importante. E poi un terzo in meno botti di capodanno, soltanto 251 feriti, foggia, un uomo perde una mano. Il fatto, Puglia e Basilicata bloccate dalla neve, l'odissea dell'ultimo dell'anno, intilta anche gli aeroporti di Bari e Brindisi. 31 dicembre, resta a terra la regione che vuole volare. E ancora, traghetto in fiamme, altri indagati, la tragedia nell'Adriatico resta al giallo dei numeri. sono alcuni marittimi, il capitano avrebbe voluto salvarli tutti, oggi il relitto a Brindisi. Barretta ha evitato il blitz degli albanesi. E poi ancora, Market in fumo al San Paolo, terrore a Bari per l'ennesimo incendio doloso. Passiamo ora al quotidiano libero, che titola con Napolitano, ci è costato 16 milioni e tanti guai. Lo stipendiamo dal 1953, ma il conto degli emolumenti incassati dal peggior Presidente della storia della Repubblica è nulla in confronto al prezzo dei suoi errori. Nei suoi nove anni, l'Italia è crollata economicamente. Renzi sugli sci, sembra il duce, solo l'incredibile Matteo delle Nevi. E poi il libero militante, l'ultimo dieco, un insulto ai berlusconiani. Torna la libertà, disfratto dopo 22 anni, salta la proroga del divieto. Poi al centro, una fotonotizia a Greta e Vanessa, ecco come le ha redotte l'Islam. Cosa cambia per noi? Lituania nell'Euro, ride, draghi, piange la Merkel. Ancora colpire gli uomini favorevoli alla TAV, la circolare dei nuclei operativi armati. Nella Roma di Marino, quanti certificati medici per non lavorare la notte di San Silvestro? Se il marito scappa via dal cancro di lei, la colletta per aiutare Giovanna. Passiamo ora al quotidiano l'avvenire che titola con Francesco la pace, dono e responsabilità. Tutti siamo chiamati a costruire fraternità. Il fatto, nella giornata mondiale, l'appello del pontefice alla preghiera e l'impegno concreto per combattere contro ogni forma di schiavitù. Ancora Greta e Vanessa nelle mani di Al-Qaeda, a video con le due cooperanti rapite in Siria. Siamo in pericolo. Colle verso l'addio a metà gennaio, sfrattino al blocco. La conferma di Napolitano sto per lasciare. Tra i temi dell'avvenire la barca di Pietro, i controrematori, la fiducia nel Papa, il direttore risponde. Poi l'Europa, il semestre italiano breve, difficile, senza grandi acuti. Poi l'intervista Serracchiani, Quirinale intesa, prima con Forza Italia. E ancora la mia storia, la mia guerra contro il gioco d'azzardo. E questo era il nostro ultimo quotidiano. Vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per aver scelto l'informazione di Molise TV e buona giornata. Il meteo è offerto da Iscriviti alla sezione Primavera Bilingue dell'Accademia Britannica. Occorre essere tanto grandi per prendere sul serio le cose dei piccoli. Previsioni del tempo per venerdì 2 gennaio. Fine dell'ondata di freddo sulle regioni sudorientali. Tuttavia, un fronte in transito sui Balcani riesce in parte ad influenzare il tempo anche sulle nostre regioni del basso versante adriatico, portando nuvolosità irregolare in transito da nord verso sud, ma con pochi fenomeni di rilievo. Venti moderati da nord-ovest, mari mossi. Temperature in aumento un po' ovunque a tutte le quote, seppur con clima ancora piuttosto freddo al mattino. Vediamole nel dettaglio. Campo basso minima 0, massima 5 gradi. Isernia minima meno 2, massima 6 gradi. Termoli minima 4, massima 10 gradi. Il meteo è stato offerto da IFGHIK Iscriviti alla sezione Primavera Bilingue dell'Accademia Britannica. Occorre essere tanto grandi per prendere sul serio le cose dei piccoli. Iscriviti al canale Iscriviti al canale